sono più grasso per tutti i ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono samuel e benvenuti in questo video su roblox questo qua è domenico questo qua abbiamo ciao mi segui il mio canale seguite il suo canale si chiama domenico 007 e seguite anche rosario e rosario che si chiama rosario 007 008 008 no ma tu ce l'hai fatta si ho preso anche al primo colpo certo io sono previsto certo che ce l'hai ce l'ho anche noemi la mia compagna a noemi quello del dopo scuola no noemi sal e chi è così no non lavoro minchia hai mai perché c'è uno che si chiama robloziono una volta una volta su canale ho visto uno che censurato anche si chiama che si chiamava zeta zazzo culo zazzo culo zazzo culo si ma perché non lo so devi saltare devi saltare così guarda 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 dove c'è la punta dove c'è la punta ecco stati fermo così ma che cazzo fa no prima io uno me lo sono fattuto di fila si no no ma che la macchina di pacman lo so devo che sia come fatto a saltare quel è perché sono un pro si ma io sono già il secondo anche io ciao prendi c'è point prendi c'è poche lo pre quello è morto è morto dobbiamo entrare dentro pacman ha un naso lungo aspetta che sono morto allora no io vado c'è c'è il naso lungo allora mi fermo no ma lo sai perché parkour 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 perché è tutto parkour no no perché sotto c'è lo sai la macchinetta quella dei videogiochi si e la sotto ce l'ho fatta entra dentro ci sono andato qua sotto ciao prendi c'è point ho preso le pastiere minecraft non sono fatto dall'ultimo c'è minecraft prima rosario stava giocando a fortnite qua lo vero c'è il cosiddetto ci giochiamo no ma che cazzo fai ora no poi dopo io ce l'ho fottone tu qua nella nella play nella play si c'è internet certo tu non ce l'hai no mamma mia quindi non può giocare ma perché satti la devi saltare nell'altro blocco così solo solo i pro sattano la guarda tipo io io sono un pro guarda che cazzo fa guardi pro dai dai aspetta non posso rilascire insieme a te guarda no guarda mi sto uccidendo ciao 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 dai però non con te vabbè ciao i porchi i porchi di minecraft questo è il più difficile il porco che sei no sono questi i porchi il porco il porco no ma che c'è qua l'iphone bello ci 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 mandiamoci un messaggio rosario rosario sto giocando a roblox con domenico non sa fare parkour ok lui mi ha scritto si va bene c'è il porco che ha la faccia strana lavati lavati tan 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 io giro no 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 oh un iphone sto passando oh mio dio qua ti devo aspettare per forza ah vai vai guarda ma perché li metti davanti guarda qua che cosa c'è la macchina di pacman no no dobbiamo scendere qua dai conno a mio via scendo via no aspetta io sto aspettando si porca 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 puttana allora cosi poi cosi le ho avuto alla minchia poi cosi e poi cosi vai prendi vai andiamo siiii andiamo viiii oh oh sono entrato dentro la macchinetta sto andando in un altro mondo oh in battle royale nooo dove siamo ma è fortnite oh oh what 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 e dai si è fortnite si mi si è bugato tutto facciamo vai vediamo se ti posso invidare ahahah dove sei mi mettono a speed io già sono imbattita no io no io no io sto andando ora imbattita ecco è sopra dell'autobus non vado a pinnacoli a pinnacoli andiamo? ok ci vado qui si è qua e qua davanti a noi però non mi uccidano no scendiamo io sono sceso ma come fai a scendere? eh basta che questa è un'arma io ho preso un bazzucca non si può fare dove fai? è più figo prima persona come si levi cosa? come si leva? basta il problema dove sei? il picco io mi sto sparando solo dove sei? ti vedo un lama un lama qualcuno sta accidenti a qualcuno? sei tu quello? questo che sta uccidendo? o ci sei? qua c'è uno scar? eh? facciamo uno scar? che cazzo è sta cosa? ma dove sei tu? io ho fatto una kill? si è vero te lo giuro kill ma il telefono è imballato cosa? c'è una cosa con la scritta ok ok come faccio a prendere le armi? non si prendono si prendono si prendono con i soldi veri si prendono con i soldi veri oh quindi è meglio di no ma io ho già trovato il bel lama io ho trovato un trampolino dove sei? non lo so neanche io sto volando non lo so neanche io sto volando non trovo neanche il ma tu dove sei? a quale l'amore ci possono aprire? ma tu sei a sud? no e dove sei? a est a est a est a prenderla la macchina si può prendere la macchina? no dammela ah da fotte mettono mare che caccia guarda cammela ha sparato no dimmi dove sei dovuto? si ti ho visto forse ciao girati dove sei? qua dietro oh girati dove? dietro di te ahhh ahhh sono saltato un po' sono saltato un po' ahhh me l'ho mancato ah e chi sta? io ero di river io ero di river ma ero riusciamo da qua aspetta a meno fa macchino boom da più riusciamo se no non è un altro game aspetta però facciamo la live facciamo la live non si può fa' si no la passo a vedere vabbè dai scegli un game e mi avete dovuto vedere il video perchè? dopo si blocca e fai stop ragazzi questo video è finito ci vediamo al prossimo video lasciate like la menina se non vi ho avuto altra notifica Grazie.